Per il momento non esisto, tanto so che cambierai idea. Sei gentile ad accompagnarmi. Figurati, ci mancherebbe. Ho sempre desiderato visitare un negozio di materassi. Non avevo mai visto tanti materassi in vita mia. Già. Secondo te quanti ce ne saranno? Gioci, davvero? Ma no, sono molti di più. Provateli, non fate complimenti. Ah! Che avete da sghignazzare voi due? Stiamo scrivendo un biglietto per Mr. Krab da accompagnare al materasio nuovo Ho capito Volete leccare i piedi al capo e mettermi in ombre Così, vero? Beh, non se ne parla nemmeno Dammi quel biglietto Non sono mica scemo io Ecco, ho firmato per tutti Ehi, non contribuisce alla spesa del regalo Ma no, lascia perdere L'importante è che Mr. Krab sia contento Ah, la mia schieda E adesso mi aspetta l'ennesima nottata in bianco Su quella specie di montagne russe versione materasio Ecco, mi sono disteso Uh, speriamo bene Che succede? Stasera mi sembra stranamente comodo e morbido Morbido